Dal 21 al 23 settembre Napoli ospiterà al PAN il primo festival del giornalismo giovane, gli Youth Media Days. Centinaia di giornalisti verranno da tutta Italia ed insieme con le istituzioni di categoria si confronteranno su temi come l'accesso alla professione e la lotta al precariato, sui nuovi media ed il giornalismo scolastico ed universitario. Oltre a dibattiti, workshop e seminari ci saranno anche sette atelier urbani, incentrati sulle iniziative di partecipazione ed impegno civico, sulle eccellenze produttive e gastronomiche e sulle bellezze nascoste di una città che ha sempre cose nuove da raccontare. Anche la Presidenza della Repubblica ha aderito alla manifestazione, che è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli ed il supporto degli European Youth Press. Il festival rientra anche nello spirito della campagna Youth Employment Action, che ha come obiettivo l'inclusione lavorativa dei giovani in Europa, puntando a migliorare le competenze dei giovani giornalisti e da far emergere le esperienze più interessanti. Alla conferenza stampa di presentazione, nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania, sono stati illustrati i dettagli dell'evento, alla presenza dell'Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli, Antonella Di Nocera, del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, del Presidente di Youth Press Italia, Simone D'Antonio, di Massimo Romano e Giuseppe Manzo, del Coordinamento Giornalisti Precari della Campania, davanti ad una platea di molti giovani giornalisti. Gli interessati a partecipare possono compilare il form di registrazione sul sito in sovrimpressione.